questo canale contiene le mie personali opinioni se non siete in grado di farvi una risolta si sente che c'è? quindi era una cosa buona però devastante funziona per rotondare e... 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 stupefatto mettete like al video se vi è piaciuto commentate sotto nei commenti seguitemi anche su Instagram sul canale Telegram il mio dinaro dello svapo vi consiglio di non guardare il video buonasera ragazzi bentornati in un nuovo video del mio dinaro dello svapo questa sera vi farò vedere come rigenero io un atomizzatore che ho da un casino di tempo che tra l'altro fu uno dei primi regali che mi fece farmacondo quando iniziamo la nostra collaborazione che è questo qua il Little Bang un atomizzatore che a mio parere rimane fra i top BF soprattutto per chi svapa con l'aria leggermente aperta quindi liquidi come il JK Barrel che è un tabacco al whisky aromatizzato oppure tutto quello che è aromatizzato secondo me qui dentro rende veramente da dio tende a tirarti fuori la parte un po' più dolce dai liquidi e personalmente a me piace tantissimo l'unica miglioria che gli ho fatto è stato cambiare il drip tip e gli ho messo uno di quelli di Luca Creation perché secondo me migliora ancora di più l'aroma di questo atomizzatore vi faccio vedere come l'ho rigenerato oggi ecco qua ragazzi allora è molto semplice benché abbia le due vitine a taglio quindi mega scomode è un atomizzatore buono quindi partiamo allentando le due vitine vanno svitate abbastanza perché sennò possono darci fastidio dopo una volta fatto questo prendiamo il nostro filo io utilizzo lo 032 Cantal A1 di Geek Vape e vado a girare una coil da 5 spire una, due, tre, quattro e cinque e tengo ovviamente le due gambine dalla stessa parte dopo di che la vado a compattare per bene e mi è uscita una coil 5 spire su punta da 2.5 dopo di che la vado a montare nell'atomizzatore vedete la coil, il bastoncino te la tiene più in alto quindi per quel motivo lì dovevate allentare un po' di più la vite ok una volta fatto questo andate a ruotarla sotto e la andate a stringere ripetete lo stesso procedimento anche dall'altra e andate a stringere dopo di che andiamo a rompere le due gambine in più rinfiliamo il nostro bastoncino e andiamo a sistemarci la coil che come vedete rimane nella stessa altezza delle due viti una volta fatto questo facciamo una prova d'attivazione coil new yes è venuta una coil da 1.1 ohm andiamo ad attivarla e vedete che si accende dall'interno verso l'esterno quindi funziona perfettamente io la faccio anche da 2 vario diametro 2 o 2.5 questa volta ho optato per un diametro da 2.5 dopo di che andiamo a prendere il cotone e lo cotoniamo andiamo ad inserirlo all'interno io come voi sapete lo devo sempre avvitare perché ormai mi è presa questa cosa nella testa e se non avvito il cotone dentro la coil non sto bene andiamo a tagliare le gambine in più il cotone non ce ne va una follia ci va il minimo necessario per far sì che vada a toccare il fondo uno e due una volta fatto questo vado a sconcare come liquido dentro c'è il jk barrel e vi dico anche una cosa per tutti quanti quelli che diranno la coil da 2.5 è troppo grande scalda troppo io svapo a 3.6 volt quindi la spingo poco perché a me piace svapare a watt e volt bassi e quindi anche con un tipo di coil come questa non va a scaldare troppo proviamo a fare un'attivazione perfetto dopodichè andiamo ad inserire questa parte della campana dove c'è il foro dell'aria e il foro dell'aria lo mettiamo perfettamente davanti alla coil così e infine andiamo a mettere anche la parte superiore dove si regola il foro dell'aria e facciamo sì che il foro rimanga aperto esattamente a metà e adesso lo andiamo a provare allora si può andare su ancora un po' con i watt adesso l'ho messo a 3.8 molto buono muy bien muy bien allora questa rigenerazione qui è un po' strana per questo tipo di atomizzatore come potete vedere comunque vaporizza da dio e non scalda cioè gli col fatto che questo atomizzatore qui ha la campana che è parecchio grande io mi trovo molto bene anche con una coil da 2.5 mm e ho più superficie a contatto e comunque non va a scaldarsi più di tanto calcolate che io svappo a 3.6 adesso sono a 3.8 volt perché mi piace a me piace lo svappo relax e devo dire che è un atomizzatore che con liquidi come il JK per chi ce l'ha se lo vuole provare secondo me ne rimarrà molto soddisfatto diciamo che è stato uno degli atomizzatori su cui ho sviluppato il JK perché appunto ti fa sentire tutte quante quelle sfumature particolari che gli da il whisky a livello di heat per me è perfetto ora sto svappando con una nicotina 3 e il colping goal è giusto lo sento come su tanti altri atomizzatori che svappo tutti i giorni per me è ottimo per me è ottimo vi consiglio di provare anche questo tipo di rigenerazione detto questo ragazzi mi raccomando iscrivetevi su Twitch al mio canale il piadinaro dello svapo vi ricordo che domani saremo in live dalle 6 di sera fino a oltranza quindi fino a mezzanotte sicuro e poi scoprirete come fare per farci andare avanti io vi saluto mi raccomando condividete stra mega condividete il video iscrivetevi al canale mettete like se il video vi è piaciuto commentate sotto nei commenti e vi auguro come sempre una buona serata ciao 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 ciao